questa meraviglia di cagnolina e toffì quasi due anni lei è arrivata cucciolina qui in canile con altri nove fratelli erano dieci buttati in campagna un volontario li ha presi e portati qui e da quel momento tutti si sono andati da fare per farli adottare perché erano degli splendori solo lei inspiegabilmente non è stata scelta da nessuno veramente da non credere io sono arrivata soltanto ultimamente quindi non ho visto gli altri ma vedo questo splendore questa cagnolina tutta bianca bellissima col pelo lungo con una bella coda guardate che meraviglia dolce vuole sempre stare attaccata vuole essere accarezzata e si dispera stare chiusa nel box infatti si è graffiata qui sul muso sotto l'occhio perché sempre con il muso infilato nella rete perché vuole uscire assolutamente vuole richiamare l'attenzione lei si rilassa solo se viene accarezzata altrimenti si dispera perché vuole stare sempre in compagnia povero amore che peccato veramente non è giusto che questi cani debbano essere condannati al canile a vita e questo accade perché arrivano i cuccioli e quando arrivano i cuccioli bisogna darsi da fare per non farli restare in canile ma sempre qualcuno fa grande e cade nel dimenticatoio adesso vogliamo dare a tofì una seconda possibilità piccola sei troppo bella secondo me qualcuno dirà cosa ci fa una cagnolina così bella e così buona in canile e chiamerà per adottarti lei non è grandissima peserà 20 chili è un po' magrina perché è stressata mangia ma purtroppo anche la vita da box sul cemento fa questo ai cani quindi sicuramente andando in famiglia diventerebbe uno splendore avrebbe un pelo meraviglioso curato sarebbe più in carne ovviamente se resta qui la situazione non cambia e allora piccola ti posso solo augurare buona fortuna speriamo che qualcuno guardi i tuoi chiami ciao piccola toffì